Il paradiso delle signore. Giovedì 24 ottobre 2019. Riccardo è molto vicino a Nicoletta e aiuta molto anche la piccola Margherita. Intanto Riccardo stesso confessa alla ragazza che sta facendo il possibile per acquistare tutte le quote di Umberto così potrà passare più tempo con lei. Questa situazione non chiarisce le idee a Nicoletta ma al contrario peggiora la situazione in quanto anche verso Cesare prova dei sentimenti e in più è sposata con lui. Il suo vero amore però è Riccardo. Silvia mostra a Cesare le prove che Nicoletta è ancora innamorata di Riccardo così lo invita a cercare di salvare il suo matrimonio con un piano tutto particolare. Marcello nel frattempo non riesce ad adattarsi e si immette in un brutto giro. Così finisce per perdere una somma esorbitante durante una partita a carte e non sa come rimediare al grande problema. Al tavolo di Marcello c'è anche una vecchia conoscenza di Angela che gli dà un regalo chiedendoli di consegnarlo a quest'ultima. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!